Sono oltre 200 in tutta la regione gli sfratti a danno degli inquilini morosi diventati esecutivi o in corso di esecuzione decisi dall'autorità giudiziaria su richiesta dell'Istituto Autonomo Case Popolari, una vera emergenza sociale che si affianca e si intreccia con la devastante crisi occupazionale e con il conseguente azzeramento del reddito per migliaia di famiglie. L'Associazione Inquilini ed Abitanti dell'Unione Sindacale di Base da tempo ha lanciato l'allarme. Oggi il sindacato rispetto all'immobilismo della regione chiede senza mezzi termini la testa dell'assessore regionale Pierpaolo Nagni e preannuncia eclatanti iniziative di protesta. Purtroppo dobbiamo constatare dopo mesi di denuncia, di mobilitazione, di appelli la totale inerzia e silenzio da parte della regione molise a fronte di questo dramma sociale. Un dramma che è sotto gli occhi di tutti, quotidianamente a noi ci giungono segnalazioni di persone che hanno ricevuto l'atto di sfratto esecutivo, una regione che nonostante ci sia è stato un provvedimento che noi riteniamo insufficiente a riguardo il piano casa del governo Renzi ma ha stanziato dei fonti a riguardo alla poriossità incolpevole o ancora si attiva. Una regione che nonostante, e qui ringrazio pubblicamente, il Movimento 5 Stelle per aver presentato in Consiglio regionale una mozione, anche il gruppo di SEL, un ordine di giorno, non discute quello che riguarda direttamente l'emergenza sfratti. Da novembre ad oggi sono passati nove mesi, la situazione non è stata per niente presa di petto, ci troviamo nella drammaticità quotidiana, noi crediamo che sia doveroso ormai qualche atto politico forte e noi come Asia OSB, come rappresentanti degli inquilini e degli abitanti chiediamo a questo punto le dimissioni dell'assessore regionale Nagno. La sua associazione ha coinvolto anche il prefetto di Campobasso? Io ringrazio pubblicamente il prefetto di Campobasso che nella sua veste istituzionale ci ha convocato ad un incontro, ci tiene costantemente informati come noi informiamo il prefetto di qualsiasi situazione in cui arrivano alla nostra sede, il prefetto ha fatto quello che nelle sue possibilità di fare manca un atto concreto da parte della regione molise. Oltre alla denuncia pubblica che iniziative avete in mente? Noi stiamo organizzando, organizzeremo per settembre una grande mobilitazione per il diritto all'abitare in questa regione, non è possibile che si continui a dare spazio a speculatori, a fare ulteriori colate di cemento a Campobasso ma anche negli altri centri di Molise mentre le persone perdono la casa e mentre migliaia di abitazioni sono sfitte. Panceremo una mobilitazione generale e su questo tema vedremo come sarà il rapporto della regione molise che ripeto a tutt'oggi non ha tenuto valido aprire mai un tavolo di confronto con le associazioni di categoria a partire dall'Asia OSB, un tavolo di confronto neanche con le istituzioni.